Purtroppo le restrizioni date dal governo non ci permetteranno la riapertura, per tanti motivi, soprattutto per la mancanza di titoli per questo periodo. Poi il distanziamento sociale all'interno della sala permetterà fino a 200 posti in sala con un posto a saltellare rispetto all'altro. Si capisce bene che sarà molto difficile aprire in queste condizioni. Non lo so, attendiamo l'ultimo DCPM dove credo almeno una piccola modifica per provare a riaprire, quantomeno con meno restrizioni, però la data del 15 giugno mi sembra molto difficile. Attendiamo qualche titolo importante per portare il pubblico al cinema. Potrebbe essere il 17 luglio con il film Tenant o il 27 luglio con Mulan, ma tutto è subordinato alla riapertura delle sale mondiali. Quindi vediamo un pochettino come la pandemia procederà anche nelle altre nazioni del mondo. e niente, quindi speriamo veramente di avere dei titoli per invogliare il pubblico a venire in sala. Le distribuzioni, avendo un po' l'acqua alla gola, parlando un po' con i produttori, si è optato per far uscire determinati titoli sulle piattaforme. Questo però purtroppo comporta un danno notevole alle sale. Non per tutti però, perché per fortuna qualche titolo importante come il film di Verdone o il film sul pittore Ligabue, molto probabilmente verranno spostati di data nel periodo natalizio. È un periodo lungo, però quantomeno rimane un titolo importante per la ripresa del cinema anche per fine anno.